16 e 9 subito un tempo interessante per boss Nagano ha fatto registrare un tempo complessivo di 1 11 e 29 nella gara del 12 dicembre poi ha saputo fare meglio il 13 dicembre con 1 10 e 93 mentre in Corea il 19 e il 20 dicembre la gara era stata dominata da Waddle Spoon a 43 e 67 attenzione a boss uomo dalle mille sorprese dalle mille risorse si sta avvicinando al traguardo Nagano subì la delusione battuto da Izbosma il connazionale 1 10 e 64 boss si avvicina al traguardo è sotto l'1 12 certamente 1 11 e 33 e va al comando della classifica davvero un grande tempo 1 11 e 33 non è ancora